Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo approfondimento. Siamo qui con il vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi. Qualche giorno fa abbiamo parlato dell'approvazione del DEF, del documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Professore, quali sono state le reazioni all'approvazione di questo documento? Insomma, una prima reazione l'avevamo già riferita in un paio di nostri articoli, cioè le organizzazioni sindacali, le confederazioni generali avevano preso subito una posizione abbastanza secca, tanto che avevano già annunciato una serie di proteste, di manifestazioni, quindi cortei, presidi e quant'altro. E quindi questo già è stata una prima risposta abbastanza netta, abbastanza chiara. È tutto lì o c'è anche qualche altra osservazione che possiamo fare su questo documento? Beh, oddio, c'è un'osservazione un po' alatere, ma tutto sommato abbastanza curiosa. Io non ho letto ovviamente tutto il documento, perché sono 450 pagine. Mi sono letto le parti che più da vicino riguardano la scuola e per esempio il capitolo che riguarda appunto la scuola è un po' curioso, perché in pochissime righe vengono infilati uno dopo l'altro termini come gap, benchmark, mismatch, field of study, mismatch e via di questo passo. Insomma, per un governo che vuole eliminare le parole straniere o comunque contenere l'uso delle parole straniere nei documenti ufficiali mi sembra davvero un po' eccessivo. Forse un uso un po' più attento al linguaggio sarebbe utile anche per consentire a tutti di comprendere davvero questo documento. Certo. Passiamo invece alla mobilitazione unitaria che è stata annunciata proprio ieri, 18 aprile, con un comunicato unitario. Cosa dicono di preciso i sindacati della scuola? Allora, appunto abbiamo detto prima della protesta delle confederazioni CGL e Cisle Will. Ieri appunto c'è stata questa uscita dei tre sindacati scuola, quindi CGL FLC, Will Scuola e Cisle Scuola, dove appunto anche loro confermano la loro intenzione di protestare contro questo documento. Loro dicono che di qui alla fine di aprile ci saranno delle assemblee unitarie nei luoghi di lavoro e poi nel mese di maggio ci saranno anche delle manifestazioni appunto in accordo con le confederazioni. Ma quali sono le proposte di questi sindacati? Insomma, le proposte sono tante, tantissime. L'elenco è molto lungo. Io direi che potremmo così riassumerlo. Intanto c'è la richiesta di rinnovare al più presto il contratto nazionale istruzione e ricerca che, come sappiamo, è ancora fermo al tavolo dell'Aran. Poi c'è la richiesta di autorizzare una migliore, una maggiore dotazione organica del personale docente ATA anche come misura di contrasto ai divari territoriali e alla dispersione scolastica. E poi ovviamente c'è la richiesta di migliorare, di adottare un sistema di reclutamento che possa consentire davvero di eliminare il precariato che, come sappiamo, è ormai arrivato a livelli non più sostenibili. Siamo ormai a più di 250.000 precari. E poi ovviamente ci sono ancora altre richieste, per esempio quella di evitare che ci siano norme di legge che intervengono sulle regole contrattuali e di definire una volta per tutte anche le regole per la mobilità territoriale. Non dimentichiamo che è ancora in sospeso tutta la partita, tutta la questione dei vincoli per la mobilità. Infine, un'ultima misura che non riguarda soltanto il mondo della scuola, ma riguarda un po' tutti. Comunque anche i sindacati scuola chiedono la cancellazione definitiva della riforma Fornero sulle pensioni. Bene, professore, ha parlato di manifestazioni nel mese di maggio. Quando si terranno? Allora, le organizzazioni sindacali parlano di tre manifestazioni interregionali. Una al nord, una al centro e una al sud. Il 6 maggio ci sarà una manifestazione a Bologna, il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli. Con questo le organizzazioni sindacali pensano di mettere una spina nel fianco al governo per indurlo a rivedere alcune scelte contenute nel DEF. Quindi, professore, da quello che dicono i sindacati non si parla di sciopero, bensì di mobilitazione unitaria? Allora, per il momento i tre sindacati confederali non parlano di sciopero, ma non dimentichiamo che comunque il 21 aprile la CUB ha indetto uno sciopero di carattere generale che coinvolge quindi anche la scuola, quindi insomma l'aria, il clima non è particolarmente disteso. E il 5 di maggio ci sarà uno sciopero invece questo riguardante soltanto il comparto scuola proclamato da COBAS, Unicobas, COBAS a Sardegna. Ecco, vedremo che cosa succederà invece in casa dei confederali nei prossimi giorni. Bene, grazie al vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo, per questi chiarimenti. Ci vediamo al prossimo approfondimento. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.